Ingredienti Dosi per 4 persone 300 grammi di pasta corta Pomodori 3 spicchi di aglio Abbondante basilico fresco e olio extravergine d'oliva Preparazione Tagliate i pomodori a pezzi Sbucciate l'aglio e tagliatelo a metà Metteteli in una zuppiera insieme al basilico spezzato a mano e condite il tutto con l'olio Lasciate insaporire per 15 minuti Cuocete intanto la pasta in abbondante acqua salata e scolatela Mettetela nella zuppiera con i pomodori Mescolate e servite Meglio togliere l'aglio prima di aggiungere la pasta Il piatto è pronto Buon appetito!